Rita Rotelli Bagli è una dinamica signora riminese nata però a Giulianova dove ha vissuto sino ai dieci anni appassionata di crociere. Con il marito la signora Rita per tanti anni impiegata nel comune di Rimini ha girato il mondo ma per il suo ottantesimo compleanno aveva un grande desiderio essere ricevuta in comune a Giulianova. Così ha scritto al commissario straordinario Eugenio Soldà avanzando pudicamente questa richiesta. Detto, fatto. La signora Rita è partita da Rimini ed è stata accolta calorosamente dal commissario Soldà nel palazzo municipale di Corso Garibaldi. Non ha mai dimenticato le sue origini nonostante viva ormai a Rimini da decenni Giulianova è radicata nel suo cuore. Io sono nata qui a Giulianova nel lontano 1939 e sono partita da Giulianova nell'anno 1949. Però Giulianova mi è rimasta nel cuore. La mia infanzia la ricordo con tanto affetto e quasi tutti gli anni vengo per la festa della Madonna dello Splendore. Io ho preso carta e penna e ho scritto al sindaco di Giulianova se per il giorno del mio ottantesimo compleanno mi poteva ricevere per farmi gli auguri. So che è una cosa insolita però io ci ho provato e ho trovato delle persone magnifiche che mi hanno risposto e mi hanno dato appuntamento per oggi. Per me è stata una felicità. Quindi ha trovato il commissario prefettizio, l'ha accolta, lei ha portato un dono al commissario, il commissario ha fatto lo stesso con lei. E quindi questa sera tornerà a Rimini e cosa racconterà ai riminesi? Sì, dunque prima di tutto ai miei familiari che non credevano che la cosa fosse possibile. E racconterò di una giornata passata qui a Giulianova ricordando il passato felice, sono felice anche adesso, però per me è stata una gioia grandissima e scusate se mi ripeto e non me l'aspettavo.